Hanzo, Dama Han e il suo ventaglio. Personaggi in ordine di apparizione. Ai, una proprietaria della stazione di posta o madame. Shite, Hanago, cortigiana della stazione di posta, maschera Zohon o Ko-omote. Zure, il minor capitano Yoshida, gentiluomo di Kyoto. Waki, un gentiluomo amico di Yoshida. Waki Zure, due o tre attendenti di Yoshida. Nota, appartiene alla quarta categoria in tutte e cinque le scuole No. Nelle versioni più recenti rispetto a quella che segue, che risale a 1543, Yoshida diventa un Waki, mentre il suo amico viene assimilato ai suoi attendenti come Waki Zure. Svolgimento. Entra Hanago, con il ventaglio in mano, che è il ventaglio standard del No, e non quello descritto nell'opera. Poi entra la madame. La madame inizia presentandosi come la gestrice della Lucanda di Nogami, nella provincia di Mino, e dice che una delle ragazze al suo servizio, che è con lei fin da quando era una bambina, Hanago, ha la mania di giocarellare sempre con il suo ventaglio, che ha per lei un significato speciale, e perciò tutti la chiamano Dama Han. Quella primavera, un uomo noto come il minor capitano Yoshida, in viaggio da Kyoto verso l'est, si è fermato alla Lucanda a passare la notte, e proprio Nago lo ha intrattenuto. Prima che egli riprendesse il suo viaggio, i due si sono scambiati i propri ventagli, e da allora lei non fa altro che fissare quel pegno d'amore, e si rifiunta di intrattenere altri ospiti, ma resta nella sua stanza, e così gli ospiti si lamentano che il servizio era scarso, e perciò adesso deve andare a parlare con lei. A questo punto si rivolge ad Hanago, e le dice che più di una volta è venuta a cercare di farla ragionare, ma lei non la ascolta, e ora ne ha abbastanza, perciò deve lasciare subito quella stanza, per andarsene dove le pare. Poi la madame rimarca che è stanca di vederla fantasticare guardando il ventaglio, glielo strappa e lo getta al suolo, rimarcandole di andarsene subito. La madame esce di scena, e Hanago raccoglie il ventaglio. Hanago si lamenta del fatto che il mondo ci scarnisce, ora e sempre, con le sue falsità, e già molti dolori le ha dato il suo destino di essere una donna dell'uscello, cioè una prostituta. E ora, dove andare Raminga, ignara di cosa le attende, con i vestiti bagnati dalle sue lacrime? Abbandona Nugami e si mette per strada, lungo la via di Omi, verso, forse, quell'uomo crudele che l'ha lasciata, e si augura di poter svanire, assieme alla sua angoscia. Hanago, dunque, esce su musica Ashirai. Entra l'amico di Yoshida, poi, su musica Shidai, entra Yoshida, assieme ai suoi tendenti. Yoshida dice che è triste dare l'addio al Monte Fuji, le cui nevi sono oggetto di lode anche a Kyoto. Il Monte Fuji, che si trova molto più in là rispetto a Nugami, è chiaramente uno dei maggiori punti di interesse per un viaggiatore, come avviene anche per Nalira nel Vise Monogatari. Detto ciò, Yoshida si presenta, e dice che l'estate scorsa ha viaggiato verso l'est, e ora che sta giungendo l'autunno, sta tornando alla capitale, e dopo aver superato Shirakawa, sono arrivati a Nugami. La barriera doganale di Shirakawa, nella provincia di Iwashiro, odierna prefettura di Fukushima, è un altro punto famoso per i viaggiatori. Si trova circa a metà strada tra Utsonomia e Fukushima. Dato che sono quasi la Lucanda, egli chiede a uno dei suoi tendenti di precederlo, e informarsi se la ragazza con cui si è impegnato si trova ancora lì. L'assistente gli risponde che è stato a chiedere, ed è venuto a sapere che la madame e la ragazza hanno avuto una lite, e così, ella se n'è andata. Yoshida ne è dispiaciuto, e dice che forse si è illuso troppo nel loro rapporto. Non di meno, una volta tornato a Kyoto, ordina che se la ragazza dovesse tornare, lui vuole essere informato. Quindi Yoshida informa che, camminando rapidi, sono giunti a Kyoto, e lui, preoccupato, si recrea diritto al Tadasu per pregare. Tadasu è il nome della foresta sacra che circonda il santuario basso di Kamo. Si trova nella zona nord-est di Kyoto, a ridosso del fiume Kamo, e quello qui citato è lo Shiro Kamo, la parte più antica del santuario, risalente al VI secolo, mentre il Kami Kamo è stato costruito circa un secolo più tardi. La foresta che lo circonda, sebbene oggi è molto più piccola che in passato, attualmente è di circa 12 ettari, è oggi protetta dall'UNESCO, e si dice che tale territorio fosse il bosco sacro della famiglia Kamo, che ancora oggi gestisce il santuario. La foresta viene detta Tadasu Nomori, ovvero Foresta della Verità, e si dice che non sia mai stata bruciata, e viene lasciata allo stato selvaggio. Il santuario protegge Kyoto dai demoni, che potrebbero penetrarvi attraverso il fiume, ma la foresta la protegge dalle possibili esondazioni del fiume Kamo. Yoshida, dunque, si sede su una stuoia per indicare che è assorto in preghiera. A questo punto entra Anago, con la spalla destra nuda, e con in mano uno spruzzino fatto con un bambù di tipo Sasa, cioè un tipo di bambù nano che ha più rami per ogni nodo. Questi sono indizi che è uscito di senno, e dice Ok, io l'ho tradotta veramente male, ma Anago recita una poesia di Mibu no Tadamine, dalla collezione imperiale Kokinshu, Poesie Vecchie e Nuove, del 905. Ai tempi della corte di Nara, ovvero l'VIII secolo, all'inizio della primavera, dame e gentiluomini si recavano sui prati del santuario di Kasuga per cogliere i primi fiori in boccio tra le nevi che si stavano sciogliendo, e l'occasione divenne oggetto di poesia, dato che un uomo poteva vedere fugacemente una dama e innamorarsene. Anago lamenta che il suo innamorato non fu sincero, e ora i giorni si susseguono, passano i mesi, mentre lei ascolta il vento, perché nessun altro le parla di lui. Che davanti alle nuvole del crepuscolo, disperata, agogna a raggiungere quei cieli e a dimenticare ogni bisogno presente. Chiede all'idea ai Buddha di avere pietà di lei, che la aiutino a superare il suo tormento. Chiede all'idea di Ashigara e Akone, Tamatsushima, Kibune e Miwa, di proteggere l'amore di uomini e donne, dicendo che se rivolgerà a tutti loro le sue preghiere, di certo le manderanno una risposta, che accetterà con rinnovata e rispettosa obbedienza. A questo punto Anago esegue una quasi danza, la Kakeri, cambiando però il ritmo diverse volte, a indice del suo stato mentale disturbato. Anago ha citato una poesia della collezione imperiale Suishu, Spigolatura poetica, del 1006, di Mibu no Tadamine, nella quale si dice che tutti si accorgano che è una dama innamorata, tranne colui che le ha rubato il cuore al primo sguardo. La spigolatura è l'atto di raccogliere nei campi ciò che è rimasto dopo il raccolto. Dunque dice che l'uomo che l'ama è odioso e privo di fede, e che non le resta che immagisi nel fiume, così che la corrente la vivia in suo amore per lui. Tale metodo viene suggerito in una poesia del Kukinshu, che però precisa che non funziona. Dato che i cuori degli uomini sono torbi di specchi d'acqua, non c'è da stupirsi che gli dei ci rifiutino. Anago continua a lamentarsi che non sa dove la condurrà il suo cammino, sebbene la luna della verità splenda su di lei. Da lui non giunge nulla, lui a cui ha consegnato il suo gioiello dell'amore, e dice di poter solo pregare, di condividere assieme con egli la vita. Ora si alza il gentiluomo, l'amico di Yoshida, e chiede ad Anago di ballare e cantare per intrattenere la loro compagnia. Sembra strano, ma nel teatro no. Succede spesso che il delirio dei folli venga scambiato per lo spettacolo di un artista, e nel medioevo giapponese le artiste donne viaggiavano attraverso il Giappone, e quelle donne che per un motivo o per l'altro si mettevano in viaggio da sole dovevano fingere di essere delle artiste itineranti per evitare di essere denunciate. Anago gli risponde che è crudele, e sebbene lei sembri salda, la semplice brezza d'ottunno fa girare il suo cuore come una tempesta. A questo punto il gentiluomo le chiede che fine abbia fatto il ventaglio di Damahan, e Anago è stupita di essere chiamata così, ma risponde che il ventaglio che ha ora apparteneva a quel crudele uomo che piange senza sosta, e sebbene sia un dono doloroso, non riesce a separarsene, anche se basta toccarlo per far cadere le sue lacrime come una pioggia. Anago racconta la sua straziante attesa alla fine dell'estate, sola e abbandonata. Passata a osservare la luna dietro il monte Cho, raccogliendo neve e lacrime, inserate di tempesta e mattine di nuvole, mentre in lontananza si udiva il rintocco di una campana e giungeva l'alba. Ricorda la stanza nella quale lei e il suo amato sono giaciuti insieme, ma ora quei giorni sono passati da molto tempo, eppure il suo cuore le dice che si rivedranno e saranno uccelli con le stesse ali e alberi con la stessa radice. Il suo amato le aveva promesso che sarebbe tornato prima dell'autunno, ma il tempo ormai è passato. Tante notti passate sono la prova che egli era un bugiardo e che il suo cuore era falso. Lei gli ha creduto e ha passato i giorni a guardare in lontananza verso i cieli distanti, mentre l'autunno avanzava e l'unico suo conforto era il ventaglio che le sussurrava che l'autunno era raggiunto il termine e con il suo candore ne ricordava la fredda neve e il nome del suo amato che le faceva venire i brividi. Non riesce a incolpare lui né il mondo, ma come potrebbe dimenticarlo? Hanago esegue una danza Gio no mai o, nelle rappresentazioni più moderne, una leggermente più veloce Cio no mai mentre riprende il canto. Dice che il sole e la luna sono passati in processione e i venti autunnali hanno soffiato e il sibilo del vento tra i canneti non fa parola del ritorno del suo amato. Il bramito del cervo e il frenire dei grilli sono cessati e svaniti come le promesse del suo amato che avrebbe fatto meglio a non fare. Il ventaglio che le ha dato impegno ha due volti, proprio come lui e anche se potrebbe non rivederlo mai più, Hanago non può dimenticarlo. Interviene dunque Yoshida che chiede al suo amico di dire alla donna che desidera vedere il ventaglio che ha con sé. Hanago dice che ha un impegno del suo innamorato e che, sebbene guardarlo le cause di dolore, non può separarsene nemmeno per un momento né lasciarlo vedere a nessun altro e si volta, stringendo a sé il ventaglio come per proteggerlo. Poi chiede al gentil'uomo perché vuole vedere il ventaglio con tanta urgenza. Si ricorda forse delle ardenti promesse fatte a Nogami ben distante sulla strada dell'est dove il mare ha sommerso le colline di Pini? Tale immagine proviene da una posia del Kokinshu nella quale un innamorato giura che, se ha mai mentito, le onde possono sommergere una montagna chiamata Sue no Matsuyama, la montagna dei Pini di Sue, che si trova nel profondo nord del Giappone e tale modo di dire era diventato proverbiale. Il gentil'uomo si fa consegnare il ventaglio di Yoshida e lo porta ad Hanago che lo prende e lo esamina con reverenza e dice di vedere che vi sono dipinti dei fiori di luna. Yoshida grida sopra le voci del coro al suo amico Perché ti è tardi? Koremitsu, avanti! Portami una lampada così che possa vedere il suo ventaglio. Questa è una citazione di una frase di Genji dal Genji Monogatari nel capitolo nella quale Dama Yugao manda attraverso una fanciulla un mazzo di fiori di luna al principe Genji fiori di luna che se recca sopra un ventaglio. Koremitsu è il servitore e il confidente di Genji. A questo punto Hanago e Yoshida con i ventagli aperti si avvicinano e si guardano negli occhi. Il coro sottolinea che riconoscono l'uno nell'altro l'innamorato perduto e ora ritrovato e che i ventagli dopo tutto sono stati il sigillo di un amore risoluto. L'opera finisce qui. Mi buonotta da Mine 889-948 seppur di basso rango era molto apprezzato a corte per le sue poesie e si contraddistinse in molte gare poetiche e le sue poesie furono selezionate per fare parte di diverse raccolte. Egli fa parte dei 36 poeti immortali. Il santuario Kazuga si trova a Nara all'interno del parco dei cervi dove questi camminano liberamente. Fu costruito nel 768 ed è il santuario della famiglia Fujiwara in occasione del festival della scimmia che si tiene il 13 marzo le migliaia di lanterne del santuario vengono accese tutte contemporaneamente. Sue si trova a circa 12 chilometri da Fukuoka e il suo picco sul Matsuyama da dove si può vedere il mare è stato visitato anche dal famoso poeta Bansho. Sembra che nemmeno in occasione del terremoto e il successivo tsunami del 2011 le onde non abbiano potuto raggiungerlo. Commento non mi sono i dubbi che sia stato Zeami a scrivere Anjo un'opera che riassume un'antica ballata con melodie inquietante. Hanago una ragazza che fa la cantante in un locanda della provincia intrattiene un cliente che proviene dalla capitale e poi perdutamente innamorata inizia a cercarlo. Al santuario di Kyoto dove si è recata per pregare di trovarlo i due si incontrano di nuovo. Tecnicamente Anago è una yujo ovvero una ragazza abile nella danza nella musica e nel canto che intrattiene i clienti della locanda durante i party ma che occasionalmente si prostituisce. I livelli letterali di Hamahan sono comparabili a quelli di una ballata storia rima e melodia. Come antefatto i guai di Anago come quello delle storie di molte ballate è valido ma facilmente dimenticabile. La proprietaria della locanda in un discorso onesto afferma che la situazione di Anago è dolorosa ma piuttosto comune. In poesia comunque il solo nome di Inugami il luogo dove si trova la locanda in questione evoca uno stato di romantico dispiacere e tale stato può essere collegato al metro e alle rime della ballata. Infine la melodia inquietante è cinese. Per oltre mille anni poeti cinesi e poeti giapponesi dopo di loro hanno celebrato la concubina abbandonata della dinastia Han Han Shouyu in cinese Pan Che Yu o Ban Che Yu ovvero Pan la bellezza prediletta. Hanago nella sua pena è assimilabile ad Han Shouyu detta anche Han Zhou ovvero Dama Han. La storia di Dama Han fu trascritta per la prima volta nello Han Shou la storia della dinastia degli Han anteriori 206 a.C. 24 d.C. e in seguito ripresa da poeti e pittori in Cina e sviluppata in versi cinesi e giapponesi dai nobili della corte Heian 794-1180. Da lì passò negli Enkyoku lunghe canzoni popolari tra guerrieri e aristocratici intorno alla metà del XIII secolo. Nell'opera una volta che Hanago ha raggiunto il santuario di Kyoto è stata provocata nel suo difficile stato mentale al delirio e il suo discorso diventa una fitta trama di illusioni come in quelle poesie e canzoni. Un commentario medievale sul Wakan Rue Shu una collezione di poesie cinesi e giapponesi da cantare a voce alta spiega la storia di Han Shouyu come segue Han Shouyu era una consorte dell'imperatore Sei di Khan Chen di Han che l'aveva in predilizione poi Hiram della famiglia Zhou Fei Yuan o Fei Yang della famiglia Zhao danzò in modo così incantevole che l'imperatore si innamorò di lei e dimenticò Shouyu Shouyu era profondamente ferita e le fiamme della gelosia le artevano tanto insopportabili nel petto che lei costruì un cerchio rotondo lo ricroprì di seta e con esso si sventolava ed è per questo che nella poesia cinese il ventaglio viene chiamato seta bianca inoltre essendo bianco e rotondo viene anche comparato alla luna piena e dato che è bianco viene collegato anche alla neve e detto ventaglio neve rotonda facendosi facendosi aria con talo ventaglio Han Shouyu dimenticò la sua rabbia nella poesia come nell'opera è l'immagine chiave e rotondo bianco ventaglio che somiglia alla luna il ventaglio che Han Shouyu evoca in una poesia d'angoscia quando compare se stessa ad un ventaglio abbandonato in autunno dopo che l'estate è passata lo stesso ventaglio in tutte le sue forme adorna la poesia di Dhamahang sebbene il ventaglio che Han Ago ha caro non sia davvero simile a quello di Han Shouyu la poesia di Han Shouyu viene detta Enkako ovvero versi di risentimento quando l'amante di Han Ago se ne va la coppia come molti innamorati prima di loro si scambia i ventagli su quello di lei sono dipinti dei fiori di luna mentre su quello di lui è dipinto la luna piena il nome giapponese del fiore è Yugao o Ipomoea Alba detta anche Vite Luna per il fatto che questi rotondi fiori bianchi sbocciano di notte e ricordano una luna piena è strano perché su Wikipedia trovo che sono originari delle regioni tropicali delle Americhe Nogami dove Han Ago incontra il suo gentiluomo era nella vecchia provincia di Mino odierna prefettura di Gifu sulla strada che da Kyoto porta alla allora selvagge terra dell'est il punto è vicino all'attuale stazione di Sekigara sulla linea dello Shinkansen verso Kyoto dalla stazione di Sekigara fino a Nogami sono circa tre chilometri e mezzo e davvero vicino si trova il piccolo tempio buddista Shinneji e a breve distanza si trova anche il sito storico dove si dice Dimoro l'imperatore Tenmu all'epoca ancora solo principe Omi durante la guerra Jinshin intorno a 632 scontrandosi con il principe Otomo la vecchia via Nakasendo passa proprio di lì ed anche il tempio Shinneji è proprio a due passi dai binari volendo dare un riferimento grossolano si trova all'estrana periferia nord-ovest di Nagoya vicino al monte Ibuki durante tutto il periodo medievale giapponese Nogami fu per la poesia ciò che è nell'opera ovvero un luogo dove un viaggiatore gentiluomo e una dama di piacere potevano innamorarsi solo per soffrire in seguito del dolore della lontananza il poeta Shotezu però attraversando Nogami nel 1408 trovò che il villaggio fosse ormai un luogo desolato dove non c'era niente da fare Shotezu 1381-1459 fu considerato l'ultimo poeta wakia di corte nato nella provincia di Bichu l'attuale Okayama da un samurai di basso rango a 15 anni fu mandato a Nara a studiare in un tempio ma dopo la morte del padre si recò a Kyoto dove divenne discepolo di Imagawa Ryoshun 1325-1420 fu duramente osteggiato dallo shogun Ashikaga Yoshinori 1394-1441 che arrivò persino a metterlo alle arresti domiciliari e a proibire che le sue poesie rientrassero in una prestigiosa antologia tuttavia dopo l'assassinio di Yoshinori e la presa del potere della fazione opposta Shōtezu tornò alla ribalta diventando addirittura precettore del nuovo shogun Ashikaga Yoshimasa 1435-1490 ma per sua fortuna Shōtezu morirà prima dello scoppiare della guerra di Onin è giunto fino a noi lo Shōtezu Monogatari un'opera che contiene sia elementi biografici che sulla sua critica poetica L'amato di Hanago un cortisano di nome Yoshida doveva essere impegnato in qualche missione ufficiale nell'est quando fece tappa lì durante il suo viaggio altre opere associate a Zeami ambientate in altri luoghi delle province prendono spunto da incontri simili ad esempio Igaki e Mazzura la stessa Gochi allude il tema il destino di Hanago ai tempi del periodo Edo 1600-1868 è una sorpresa per le popolari opere di teatro Kabuki e Muraku basate sull'opera No che la confusero immediatamente con la tragica madre del fiume Sumida forse ciò accade semplicemente perché si chiama Yoshida anche il ragazzo morto in quest'ultima opera e perché entrambe le opere comprendono un viaggio verso est a ogni modo sul suolo dello Shin-enji della vecchia Nogami ora stretta tra un'attostrada e la linea dello Shinkansen una iscrizione davanti della cappella di Kano di Dama Han recita questo posto è detto Nogami un tempo il minor capitano di Ushida si fermò qui e debba una relazione con Anago la ragazza che lo serviva quando se ne andò le disse che se il loro figlio fosse stato un maschio avrebbe dovuto chiamarlo Ume Wakamaru e le lasciò il suo ventaglio come pegno quando Ume Wakam crebbe abbastanza viaggiò verso est per cercare suo padre e in seguito la sua ansiosa madre lo seguì quando raggiunsero Mokubo-ji di Edo venne a sapere che Ushida si era raccato la capitale e che Ume Wakamaru era morto ed era stato seppellito al tempio sconvolta sconvolta Anago ritornò a Nogami dove si dedicò all'adorazione della statua di Kanno sul Kanno Yama e morì folle di mente non distante non distante dallo Shin'en Ji vi è una graziosa vecchia casa che si dice occupi il sito del bordello di Nogami e la famiglia che ci vive conserva una stata di Ume Wakamaru oltre a una statua e diversi oggetti dipinti che ritraggono Dama Han Ban Ji Aiu 48 a.C. 2 a.C. era una concubina dell'imperatore Chengdi ed era nota come studiosa e poetessa dato che però nell'imperatrice Su e lei riuscivano a dare un erede all'imperatore in realtà Ji Aiu ebbe due figli da lui ma morirono entrambi durante l'infanzia l'imperatrice madre Wang Zhengju convinse il figlio a prendere altre concubine e lui scelse le due sorelle danzatrici Zhao Feiyan e Zhao Hede in seguito l'imperatrice Su e Dama Ban furono accusate di stregoneria ma se l'imperatrice accettò la sua punizione e venne messa agli arresti nei suoi quartieri Dama Ban si difese durante il processo riuscendo a scagionarsi grazie alle sue dotte citazioni e in seguito decise di spostarsi al servizio dell'imperatrice madre nella sua poesia più famosa già citata in cinese viene detta Yuan Ghexin ma attualmente vi sono forti dubbi che sia davvero sua l'imperatore Cheng 51 a.C. 7 a.C. come si può intuire non era proprio l'archetipo del buon sovrano ed era noto fino a quando era principe ereditario col nome di Hao per essere dedito all'alcol e alle donne tanto che l'imperatore Yuan suo padre fino all'ultimo sembrava più propenso a lasciare il trono al principe Kang figlio della sua concubina Dama Fu ma alla fine salì al trono proprio lui nel 33 a.C. nonostante le voci il nuovo imperatore non fece uccidere il fratello e anzi lo invitava spesso a soggiornare a corte ma nel frattempo la famiglia d'origine di sua madre i Wang preggioro in mano le redini dello stato cinese l'imperatore morì improvvisamente le male lingue dicono per colpa di un'eccessiva dose di afrodisiaco somministratoli dall'amante Zhao Hede che poco prima per gelosia aveva fatto uccidere due figli che l'imperatore aveva avuto con altri concubini nati nel 12 e nell'11 a.C. in seguito Zhao Hede si suiciderà nel 7 a.C. dopo essere stata messa sotto accusa per la morte del figlio dall'imperatrice madre Wang processo che porterà anche alla destituzione di tutti i parenti della sorella Zhao si salverà solo Zhao Feiyan che nel frattempo era riuscita a diventare imperatrice dopo che l'imperatrice Xu era stata accusata di stregoneria Zhao Hede invece era salita al grado di Zhao Hi ovvero prima concubina dopo l'imperatrice anche se in seguito diventerà lei la prediletta dell'imperatore Cheng al posto della sorella Zhao Feiyan probabile nascita nel 45 a.C. e morte nell'1 a.C. che poi diventerà appunto l'imperatrice Xiao Cheng nel 16 a.C. nonostante l'opposizione dell'imperatrice madre Wang sembra fosse nata da dei poveri servi della famiglia Zhao e venne poi adottata da Zhao Lin servitore delle casate principesche e infine entrò tra le ballerine della principessa Yanga ovvero una sorella di Cheng che si innamorò di lei durante una visita alla sorella nel 19 a.C. il suo nome Feiyan significa rondire in volo e si riferisce alla sua agilità nella danza dopo la morte di Cheng e della sorella Hede nonostante il processo istituito dalla vecchia imperatrice Wang Feiyan se la cavò grazie alle buone relazioni con il nuovo imperatore Hai ma alla morte di quest'ultimo l'imperatrice madre Wang decisa a fare piazza pulita di tutti gli ostacoli al potere della sua famiglia fece nominare suo nipote Wang Mang 45 a.C. 23 a.C. reggente dell'imperatore Ping che morirà nel 6 d.C. a 14 anni proprio per mano del suo reggente che lo avvelenerà e costui spogliò Feiyan dei suoi titoli fino a degradarla a semplice plebea e a darle l'incarico di fare la guardia alla tomba del defunto Cheng a quel punto Feiyan si suicidò ma su questi suicidi e sulle varie accuse secondo me alleggia il sospetto che la storia l'hanno scritta quelli dei Wang che conquistarono il potere Feiyan era nota per la sua figura snella e viene tradizionalmente messa in contrasto con una delle quattro bellezze della Cina antica Yang Gui Fei che invece era più curvi tanto che esiste il detto la rotonda cui fei l'esile Feiyan che si riferisce alla possibilità che la bellezza abbia diverse forme e taglie cercando il tempio Mokuboji si viene rinviati ai Komogi e si scopre che lì si trova la tomba di un bambino Ume Wakamaru che nel 1936 il monaco Chuen Jari scolpì lì una tomba sul luogo della sua morte dove veniva venerato come Ume Wakka Sanno Kogè la leggenda narra che Ume Wakka fu rapito dai trafficanti di schiavi e morì nel luogo dove si trova il suo tumulo e che circa un anno dopo sua madre che lo stava cercando pregò su di esso l'episodio fece da spunto un intero filone di opere di diverso genere detto Sumida Kawamono che divenne molto popolare la tale tumulo si trova al Momodera ed è una ricostruzione in seguito all'acquisizione dei terreni originali del tempio a fini governativi la storia dice che Ume Wakamaru che studiava all'Henry Akugi sul monte Iei a Kyoto fu costretto a fuggire dall'invidia del monaco Matsu Wakamaru e rapito poi sulla spiaggia di Otsu dal mercante di schiavi Shinobu Tota di Osho ma durante il suo viaggio verso est morì durante la seconda guerra mondiale il tempio fu colpito due volte e si salvò una terca commemorativa del grande attore Ichikawa D'Angelo IX che aveva devoluto del denaro per il suo restauro sul cui retro il sacerdotto del tempio scrisse dell'evento avvenuto il 15 aprile del 1945 giorno della commemorazione annuale per lo spirito di Ume Wakka il tempio si trova tra il fiume Sumida e il fiume Arakawa non molto a nord-est di Asakusa ultima nota di colore uno dei pani più famosi e apprezzati in Giappone è il pane di Nogami prodotto artigianalmente e venduto in oltre 20.000 pezzi ogni giorno che deve la sua fama alla sua estrema morbidezza di Asakusa